Ciao ragazzi, allora esiste un sistema per parlare con l'aldilà si chiama tavola uigia penso che sia questa la pronuncia giusta ci sono molti tipi di pronuncia ma vabbè chiamiamola così, tavola uigia tanto alla fine quello che conta è il concetto questa tavola è una sorta di foglio di carta o tavola appunto disegnata su con tutta una serie di risposte possibili si, no, forse, che ne so, abc, dietro l'alfabeto, i numeri le persone che fanno questa sorta di seduta spiritica, chiamiamola così mettono le dita su un indicatore che scivola su questa tavola in modo tale che questa entità astratta o magari che viene dall'aldilà, non lo so questa entità, questo demone, questa entità si, chiamiamola così in modo tale che questa entità possa interagire con le persone muovendo questo indicatore al centro di questa tavola per dare delle risposte si parte con un piccolo rito per poi invocare o evocare, non so come si dice invocare, evocare, ma questa entità, tanto qua credo che sia un po' tutta da ridere si chiama questa entità e questa entità si impersona in questo indicatore entra in sintonia con questo indicatore e poi ci si possono fare alcune domande ci si possono fare alcune domande su, che ne so anche la propria morte oppure che vi posso dire cosa succederà nell'imminente futuro nel prossimo futuro nel remoto futuro fare domande sul passato o su cose che magari su cose che magari volete sapere insomma una sorta di oracolo virtuale con questo pezzo di carta e questo indicatore su cui sono appoggiate le mani con le dita io ho visto decine e decine di video di queste di queste tavole calcolate che il 90% è fatto da preadolescenti video di bassa lega peggio dei miei i miei sono di bassa lega ma questi mamma mia sono proprio una cosa terribile la cosa che tra parentesi mi sono chiesta che c'hanno migliaia di view quindi mi tocca a favore qualche video di bassa 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 lega vabbè comunque a parte la aperta e chiusa parentesi mi sono sorbito tutta questa serie di video di questi di queste persone che mentre facevano queste cose apparentemente serie chi scherzava a destra chi scherzava a sinistra video montato tagliato spezzoni una cosa schifosa schifosa proprio ma quello che mi ha fatto veramente imbaurire come dicono a Napoli imbaurire di paura è una sorta di prete almeno penso era vestito come un prete stava in macchina che raccontava di non fare questa questo esperimento della tavola Ouija perché praticamente adesso che ci aveva avvertito con il suo video sarebbe stato nostra responsabilità fare questi video cioè fare questi esperimenti con questa tavola maledetta e quindi saremmo diventati pazzi un po' come la masturbazione porta alla cecità dai parliamoci chiaro e insomma io che cosa ho fatto sono andato a vedere questa serie di video ma con un occhio diverso perché io quando devo devo criticare un video no? criticare nel senso di critica cioè nel senso che io voglio parlare di questo video sappiate solo una cosa che Spectro Maledicto deve sempre dire il contrario quindi io francamente non mi sento di imporre un'idea o di dare la mia idea io vedo una serie di video 99 dicono che questa tavola uigia è pericolosa è attenzione dice e dice si mette in conto quando vedo la maggioranza io mi scaglio contro la maggioranza in difesa della minoranza un po' come altri argomenti che ho trattato sui miei sul mio canale con i miei video e praticamente ho deciso di scagliarmi contro la maggioranza che è quello che è quella che dice che questa tavola ti mette in contatto con l'aldilà e che praticamente è pericolosissima e ho notato un comune denominatore in questa in questa tavola che è praticamente dovete fare molta attenzione io ho fatto vabbè utilizzo programmi di rendering 3D quindi ho l'occhio un po' allenato per quanto riguarda gli effetti speciali no? e quindi sono andato a vedere che praticamente in rallenti rallentando il video la maggior parte delle volte le mani si muovono prima dell'indicatore vi spiego meglio c'è questo indicatore queste mani queste dita sopra praticamente questo indicatore le mani dovrebbero confluire su questo indicatore e portare l'energia di questa entità sull'indicatore e l'indicatore dovrebbe spostarsi autonomamente dalle mani ovviamente le mani che sono appoggiate sull'indicatore dovrebbero seguire questo indicatore in modo tale da da trasferire cioè funzionano da trasferimento di energia queste mani non funzionano che le mani spostano l'indicatore e allora ho fatto una breve analisi cinetica della situazione ho detto se l'indicatore si sposta indifferentemente dalle mani cioè io non so dove si sposterà l'indicatore quindi l'indicatore sarà lui a trascinare le mie dita ok? non saranno le mie dita a trascinare l'indicatore per capire questo piccolo questa piccola differenza come si fa a capire se le dita trascinano l'indicatore o se l'indicatore trascina le dita semplicissimo e chi si muove prima se si muove prima l'indicatore significa che è l'indicatore che trascina le dita le mani in genere se si muove se si muovono prima le mani ok? e poi l'indicatore significa che la forza delle dita delle mani si trasmetterà sull'indicatore ovviamente dimostrando che è il soggetto o a destra o a sinistra se sono due oppure più soggetti un soggetto ricordatevi questa cosa che soltanto uno comanda l'indicatore gli altri sono soggetti passivi quindi bisogna innanzitutto scovare l'indicatore cioè scovare il soggetto che trascina l'indicatore ok? la mano incriminata e poi vedere appunto notare che si muove prima la mano e poi l'indicatore allora io però avendo trovato questa questa spiegazione per questa per questo tipo di di video per questo tipo di eventi mi sono chiesto vabbè spettro vediamo un po' di analizzare bene a fondo e ho guardato altri video e hanno effettivamente tutti questo piccolo problema piccolo ma non trascurabile problema direte voi allora fai una una seduta raga dai ce ne ho fatte le sedute ho fatto un paio ho assistito un paio di sedute spiritiche ma francamente non ho rilevato nulla certo mi sono capitate che anche cose strane e inspiegabili ma adesso se una cosa non è spiegabile la devo attribuire per forza dai non mi sembra il caso in questo in questa analisi che ho fatto ho cercato di essere più razionale possibile e di utilizzare le mie esperienze per capire qual era il problema allora se volete verificare andate in giro su internet su youtube a verificare questi video dove si muove prima la mano o una delle mani di quello che comanda attenzione bisogna isolarlo bene bisogna vedere bene i video come funzionano e poi verificare appunto che si muove prima la mano che l'indicatore quindi deduco da questo che la tavola uigia lascia un po' il tempo che trova se vogliamo forse magari oh questo non esclude attenzione voglio essere chiaro non esclude l'aldilà non esclude che ci possano stare entità superiori attenzione voglio essere chiaro perché io sempre no spesso sempre sono frainteso dai miei da miei avversi io li chiamo così i miei avversi perché magari sono do per scontato delle cose che non sono scontate allora io con questo non voglio dire che non ci sia l'aldilà non voglio dire che non ci siano le entità superiori o cose del genere assolutamente voglio dire che nella fattispecie questa tavola uigia mi sembra un po' una cosa un po' leggerotta almeno che rimango sempre aperto a qualche link che mi mettete sotto alla chat per verificare qualche altro video che può essere io almeno da quelli che ho visto è così però ne parliamo va bene ne voglio parlare perché francamente mi piacerebbe che fosse vero devo essere sincero mi piacerebbe che questa tavola uigia fosse veramente quello che dicono perché a questo punto mi interesserebbe parecchio ecco io se sono andato a vedere questi video è perché volevo fare questo esperimento ma visti questi video mi sono un po' calate cadute le braccia no? cioè in effetti allora ecco adesso voglio fare un esperimento con lo sciamano che mi ha detto di recuperare delle cose per fare l'esperimento del pendolo e va bene va bene ben venga io sono uno sperimentatore per cui problemi non ce ne sono voglio fare tutti i tipi di esperimenti e voglio mettervi al corrente di quello che faccio stiamo qui per fare un po' di tutto dai quindi vi saluto un abbraccio a tutti e vi ringrazio per avermi seguito ciao a tutti di Spectro Maledicto